festeggia con noi il centenario dell'aeronautica militare domenica 21 maggio dalle 10 alle 18 il 72esimo stormo di frosinone apre le sue porte al pubblico in occasione dell'hally day 2023 simulatore di volo mostra di elicotteri attività di volo stand espositivi a tema area picnic e tantissime altre attrazioni per una giornata da prendere al volo salite a bordo con noi per festeggiare insieme i nostri primi 100 anni domenica 21 maggio dalle 10 alle 18 ingresso libero e parcheggi gratuiti all'esterno aeroporto girolamo moscaradini 72esimo stormo aeronautica militare